Ok, next I want to talk a little bit about the future of Parmacalcio, give you a few thoughts that you may know, may not know, and then at any time, I guess, or at the end of that, I'm happy to answer any questions you may have. Quindi se non avete altre domande mi soffermerei a parlare brevemente di alcune idee che abbiamo per il futuro del Parmacalcio. Dopodiché se avrete domande a questo proposito sono lieto di rispondere. E' vero che è la seconda volta che ci vediamo in due giorni, ma in realtà non ho ancora avuto l'opportunità di parlarvi sufficientemente. E credo che come società dobbiamo comunicare di più, comunicare meglio. E a partire da oggi l'intento è proprio quello di comunicare meglio, migliorare la comunicazione. E vorrei partire parlando del luogo in cui ci troviamo, dello stadio. Ovviamente siamo tutti in trepidante attesa delle prossime elezioni del nuovo sindaco e della nuova giunta che diventano fondamentali per l'approvazione del progetto definitivo. E come ho già avuto modo di dirvi, nei mesi passati abbiamo lavorato a stretto contatto con l'amministrazione locale per rispondere per quanto possibile a tutte le domande che la stessa ci ha posto relativamente a questo progetto. E ad oggi siamo, a nostro avviso, a buon punto per cui ci auguriamo che il progetto venga approvato quanto prima. Il piano prevede gli inizi dei lavori di costruzione una volta terminata la stagione. E ovviamente tutte le volte che mi è capitato di parlare del progetto stadio ho ripetuto come vorrei che appunto lo stadio fosse utilizzato, quanti più giorni possibile durante l'anno. Altri due argomenti quando parliamo appunto di strutture presente all'interno della società sono appunto la struttura, il centro di allenamento e il settore giovanile. La nostra intenzione è quella di creare, soprattutto dopo che mi sono dato un'occhiata in giro qui in Italia, di creare la struttura migliore esistente in Italia, il centro sportivo di allenamento migliore in Italia. E ovviamente il centro migliore per la prima squadra femminile, per la prima squadra maschile, per i ragazzi e le ragazze del settore giovanile che si alleneranno lì, magari non tutti insieme. Quindi questo ci darà la possibilità di offrire alle nostre prime squadre delle strutture adeguate, quali le palestre, i luoghi per l'allenamento. Anche se devo dire che il settore maschile è già ben attrezzato. L'impatto maggiore sicuramente lo avrà il settore giovanile. Voi sapete, perché l'ho ripetuto diverse volte, quanto io ci tenga al settore giovanile. Per riuscire ad arrivare a giocare ai livelli più alti è essenziale formare i nostri giovani, i giovani che poi giocheranno nelle squadre superiori. Quindi delle spese, una spesa di 30 milioni di euro per dotare la società di un centro di allenamento adeguato, è una cifra comunque spendibile e non basterebbe per comprare dei grandi giocatori. E trovo inoltre che crescere i ragazzi in giallo-blu già da bambini per portarli poi nella prima squadra, ci dia come valore aggiunto l'orgoglio di crescere con la maglia giallo-blu. Ovviamente riuscire a sviluppare, a far crescere il settore giovanile con le strutture migliori richiede del tempo. Quindi siate pazienti, datici il tempo che ci servirà appunto per raggiungere questo obiettivo. Un programma e una struttura, programmi e strutture adeguate per la crescita del settore giovanile. Il secondo argomento che vorrei trattare è l'ambito della performance analytics, cioè dell'analisi dei dati prestazionali. E anche questo a mio avviso è un ambito che può fare la differenza rispetto ad altre squadre italiane. I think when we look at this, and it is really two parts, it's the analytics and the performance side, a lot of times I think it's misunderstood under what these words mean. In realtà questo termine molto spesso non viene ben compreso. È costituito da due elementi, la parte diciamo analitica di analisi dei dati e la parte prestazionale. Ecco, questa espressione, la performance analytics, dovrebbe essere interpretata come una raccolta di tutte le informazioni, tutti i dati necessari per consentire il miglioramento delle prestazioni dei giocatori. Grazie a un sistema GPS già oggi, applicato sulla schiena dei giocatori, già oggi siamo in grado di misurare una serie di parametri relativamente a quanto appunto i giocatori fanno, e non solo qui, ma in tutto il mondo. Per esempio, siamo in grado di misurare, di rilevare quanto il giocatore giochi in termini di ore o minuti, o di carico durante appunto il gioco, e utilizzare poi questi dati per capire quale impatto l'allenamento, il gioco abbia sulle prestazioni o sugli infortuni che il giocatore subisce. Sì, e fra l'altro ho citato proprio la questione degli infortuni, perché l'anno scorso gli infortuni ci hanno penalizzato notevolmente. Quindi si tratta di raccogliere, utilizzare tutte queste informazioni per capire come migliorare, diciamo, non solo la prestazione del giocatore, ma anche la prestazione della società in generale. Sì, molto probabilmente questi dati in futuro, non adesso, non siamo ancora pronti adesso, ma in futuro potranno essere utilizzati anche per individuare, per andare a cercare, a trovare i giocatori. E per adesso continuiamo a utilizzare i nostri scout. Sì, e quando parliamo di prestazioni, se ci pensate, facciamo esclusivo riferimento alla persona, all'individuo, al suo atteggiamento mentale, alla sua condizione fisica, all'alimentazione che ha. Cioè, il focus è sulla persona, sul giocatore. E ovviamente questo ci aiuterà anche grazie appunto al manager che abbiamo ingaggiato l'anno scorso e che si occupa di questi dati. ci aiuterà sicuramente a rafforzare, a migliorare anche il settore giovanile. E sono proprio questi i due ambiti, quindi il settore giovanile e l'utilizzo dell'analisi dei dati, che faranno la differenza per farci salire di livello. E penso che, ultimamente, direi in conclusione, prima di andare a domande, è, come ho detto ieri, è stata una due stagione difficile per me, per la nostra staffa e per tutti i nostri fanci. Quindi, prima di concludere, lasciare la parola a voi e alle vostre eventuali domande. Come già dicevo ieri, le ultime due stagioni sono state molto difficili per me in primis, ma anche per il nostro staff e la società in generale, e i nostri tifosi soprattutto. Io non perdo la fiducia, mi sento molto bene rispetto al futuro, sono molto ottimista rispetto al futuro. Parma continua ad essere una città meravigliosa, il Parma Calcio, una squadra fantastica, con una storia incredibile, e sono fiducioso che ritorneremo grandi anche in futuro. E adesso, domande? Beh, questa piccola rivoluzione sulla comunicazione forse è iniziata con una rivoluzione nella società, perché in un picchio tra gennaio e pochi giorni fa, il Parma ha salutato Calma e Ribalta, che forse non ci si aspettava, anche perché Ribalta, per esempio, aveva appena ingaggiato Pecchia insieme ai collaboratori. E questo è un corso nuovo anche da questo punto di vista, dei dirigenti, di chi la fiancherà in questa, come si può dire, seconda repubblica di Krause. Non so se rivoluzione è esattamente il termine che utilizzerei, ma continueremo a lavorare e per migliorare. Penso che ogni volta che si sceglie persone, hai il rischio di essere non un buon fit per il club, la società o la persona. Quando si assumono delle persone, ci si assume anche il rischio che la persona scelta possa non essere la persona adeguata per la società o che il ruolo assegnato alla persona non sia adeguato alla persona stessa, all'individuo. In più, bisogna tener conto delle molteplici attività in corso, messe in atto appunto per favorire la crescita dal centro di colleghio, il settore giovanile, lo stadio, il settore femminile, l'analisi appunto dei dati prestazionali. Quindi è importante continuare ad assumere persone che ci consentano di far fronte a tutte queste attività, di avere la capacità di far fronte a tutte queste iniziative. And I think it's back to the word that you used of we need to communicate, no different than the question about what are we doing in America, the same question could be what are we doing in Argentina or Poland or wherever in the world. Altra questione fondamentale è la necessità di comunicare, comunicare per appunto, perché è importante sapere quello che avviene negli Stati Uniti, ma così come in altre parti del mondo, in Argentina o altrove. Amo il calcio, è il motivo per cui sono qui oggi, ma ci sono altre persone sparse per il mondo, che amano il calcio e amano l'Italia. E Parma ha una storia fantastica, basta pensare ai trofei, la società che la squadra ha vinto. E' quindi il momento di parlarne. Le chiedo più direttamente, un anno fa il Parma aveva due manager apicali nella parte aziendale e nella parte sportiva, oggi non ci sono più. State cercando due figure in queste settimane, magari una forse l'avete già trovata. E state parlando con qualcuno o il nuovo organigramma societario non prevede una gerarchia di questo tipo? Ok, 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 go ahead, take that, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, no. No, our structure is staying the same. We replace the managing director sport, we replace the managing director corporate. I hope to announce the managing director corporate sometime in the next few weeks. La struttura rimane invariata, quindi la società procederà a rimpiazzare, a sostituire il managing director sul lato corporate e sul lato sport. Mi auguro di poter fare un annuncio nelle prossime settimane a questo proposito. Per quanto riguarda il managing director sport, we are talking to people now, it is the right time of year to, as people make changes on the sporting side, and so I am optimistic that we'll have someone hired soon, but we've certainly made no final decisions there. Per quanto riguarda il direttore, il managing director lato sport, abbiamo delle, stiamo parlando con alcune persone proprio in questo momento, che peraltro è il momento giusto per questo tipo di colloqui, sono abbastanza ottimista, che saremo in grado di ingaggiare qualcuno nel breve periodo, ma attualmente non è stata ancora presa nessuna decisione. Altre domande? Sì, scusami. Un altro livello su cui state molto lavorando, pur nell'ombra, o perlomeno senza darne pubblicità, è quello del rapporto con la città e con i tifosi. perché chiaramente in questi due anni la mancanza di vittorie e di successi, ma anche un po' forse la chiusura, dovuta magari anche al Covid e al momento particolare, ha fermato un po' quel rapporto diretto con i tifosi che la squadra qui a Parma ha sempre avuto. Farete dei passi avanti anche in questo? Prima di tutto speriamo che il Covid sia ormai storia passata e quindi i tifosi possono ritornare allo stadio. Quindi appunto ci auguriamo che la partecipazione dei tifosi allo stadio possa ritornare appunto ai livelli pre-pandemia. Sì, in queste due stagioni siamo stati molto attenti con i nostri giocatori, evitando eventuali visite a scuole o ospedali, che sono iniziative che ai giocatori stessi in genere piacciono. E ovviamente la gestione di questo tipo di rischio è stata particolarmente attenta non solo perché, diciamo, non solo per i giocatori stessi, ma comprendiamo che abbia un po' minato, diciamo, i rapporti con la tifoseria. E quindi proprio per questo nella stagione passata abbiamo avuto, sì, molti infortuni, ma pochi problemi col Covid. E credo comunque che anche i nostri giocatori amino sfruttare qualsiasi opportunità per rappresentare il Parma, sia che si tratti di visite in un ospedale, parlare con i ragazzini ricoverati in ospedale o con i ragazzi nelle scuole. E proprio ieri ho avuto l'opportunità di incontrare alcuni rappresentanti di gruppi, di fan club, e lo abbiamo fatto in una struttura chiusa. L'ultima volta che li avevo incontrati risale probabilmente a tre mesi fa e ricordo che eravamo dovuti restare all'esterno proprio per scongiurare qualsiasi rischio legato al Covid. E credo di poter parlare a nome dei giocatori, non solo a titolo personale. E' molto piacevole camminare per le strade della città, parlare, salutare, ricevere il sostegno dei tifosi, a chi non piacerebbe. Sì, ovviamente parlando delle difficoltà di comunicazione, voi capite quanto risulti difficile comunicare se non si riesce ad essere faccia a faccia. Quindi la mancanza di coinvolgimento non è stata assolutamente una strategia, ma piuttosto una reazione alla pandemia, alle condizioni dettate dalla pandemia. Una doppia curiosità. Parlava degli infortuni, il primo Presidente, si sarà fatto qualche domanda? Negli scorsi mesi si sarà chiesto il perché di così tanti infortuni nelle ultime due stagioni. La seconda domanda, gliela rivolgo subito, prima parlava dei progetti relativi alla costruzione del nuovo stadio e tra le sue ambizioni, tra i suoi sogni, mi è sembrato di capire anche quello di rinnovare il centro sportivo. Quindi le chiedo entro quanto tempo prevederebbe di realizzare questo suo desiderio di rifare il centro sportivo e nel caso anche dove, sempre a Collecchio? Grazie. I think the first on the injuries, I mean, of course, we look at it, talk about it, make changes and try to do things to address. But I think one of those changes we tried to do is to the best we could create a single source of truth. Per quanto riguarda gli infortuni, ovviamente questi sono stati esaminati, sono state apportate delle modifiche per cercare appunto di dare una svolta alla situazione. E alla fine abbiamo cercato quella che potrei definire un'unica fonte della verità. Tutti fondamentalmente hanno idee, hanno idee. rispetto a cosa possa essere buono per il giocatore. Quando dico tutti, intendo dall'allenatore al medico, al fisioterapista. E quindi, diciamo, sono poi gli esperti a decidere su basi scientifiche, come intervenire a livello riabilitativo, per esempio, per recuperare il giocatore da un infortunio, per evitare che l'infortunio si ripeta. E quindi utilizzeremo questi dati di cui vi parlavo prima, l'analisi dei dati sulle prestazioni, raccogliendo appunto tutti questi dati per, da un lato, ridurre l'occorrenza e l'incidenza del rischio di infortunio per i giocatori, e dall'altro per trovare le soluzioni di riabilitazione per rendere il giocatore disponibile nei tempi più stretti possibile. Quindi per quanto riguarda il centro sportivo, l'intenzione è quella di attuare una trasformazione, cioè di trasformare la struttura che è già presente a Collecchio. Quindi abbiamo già iniziato a lavorare su questa trasformazione di Collecchio, ma contrariamente a quanto succede con lo stadio, non abbiamo ancora un vero e proprio programma per quanto riguarda la costruzione. Scusi, scusi. But I would guess that we'll have a start in 2023. Posso ipotizzare il 2023 come un possibile anno di inizio lavori anche a Collecchio? Speriamo. Vedo che non ci sono ulteriori prenotazioni per altre domande, una di Guglielmo Truppo, e poi direi che andiamo alla conclusione se non ha altro logicamente da aggiungere il nostro Presidente. Guglielmo, attenzione. Presidente, si parla di piani per il presente di Parma, della prima squadra maschile. Le chiedo che input avrà il mercato, verso quale direzione andrà il mercato, perché nella sua gestione abbiamo visto una grande attenzione ai giocatori giovani, e ai giocatori che magari vengono da altri paesi e non conoscono appieno le difficoltà di un campionato o comunque quale la Serie B o comunque la Serie A, perché lei è arrivato anche in Serie A. Grazie. You know, my first reaction is I find that more maybe a perception than a reality when you think of many, many of the players that we signed last year. Beh, in realtà, quello che lei diceva è forse più una percezione che una vera e propria realtà considerato i giocatori che abbiamo ingaggiato nella scorsa stagione. We probably signed 10 players that are Serie A, Serie B players, experienced players to join Parma last year, not all successfully. Se pensiamo alla stagione passata abbiamo ingaggiato una decina di giocatori, diciamo, di esperienza di Serie A e di Serie B, fra l'altro non tutti con grande successo. Quindi per la prossima stagione la strategia su cui stiamo lavorando è eventualmente di concentrarci, di dirigerci verso giocatori un po' più giovani, un po' più giovani rispetto ad alcuni di quelli che avevamo ingaggiato nella scorsa stagione. In ogni caso, appunto, il dire più giovane è sempre molto relativo, ma al di là di questo l'intenzione è comunque di avere giocatori di esperienza, che abbiano avuto esperienza sia in Serie A che in Serie B. E abbiamo, diciamo, una base abbastanza buona per la prossima stagione, una base di giocatori che hanno una certa esperienza con la Serie B. Quindi questa sarà la base per la trasformazione o la rivoluzione, come diceva il collega, per la prossima stagione. No, 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 va bene, va bene. No, l'ultima, veramente l'ultima. No, 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 no. Sono così poche le occasioni di parlare con lei che... Sì, poi pago io, pago l'aperitivo dopo a tutti. L'ultima stagione hanno vinto le squadre, come ad esempio Cremonese, Lecce, sono state promosse in Serie A con un'ossatura importante, collaudata di gente che conosceva il campionato e con gente, appunto, anche riguardo al management, che lo conosceva. Io le chiedo se l'obiettivo del Parma, come diceva lei, è andare in Serie A, se basteranno questi calciatori, ancora più giovani relativamente, a salire di categoria. Se è questo l'obiettivo. Proprio ieri abbiamo presentato una persona, Fabio Pecchia, che ha giocato la scorsa stagione con una rosa di giocatori molto giovani e, diciamo, nuovissimi per la Serie B. Quindi credo che il punto cruciale non sia tanto giovane o vecchio, ma piuttosto il talento, giocatori di talento. E se guardiamo alla rosa dell'anno scorso, abbiamo una serie, una base, un nocciolo duro di giocatori molto significativo. giocatori di qualità che sono rimasti con noi tutta la stagione in Serie B, giocatori che comunque avevamo due esperienze in Serie B e in Serie A. Quindi quello di cui abbiamo bisogno è di inserire, abbiamo bisogno di più giocatori da integrare in questo nocciolo duro che già abbiamo. Non vi farò mancare i miei tweet. Ottimo, grazie. A questo punto se vogliamo fare i saluti finali. Il signore ha parlato di aperitivo, aperitivo per tutti, quindi... Now, I thank you for coming two days in a row and I appreciate the questions. I mean, I love the opportunity to talk about Parma. I love the club. I love being here. And so for me it's a true pleasure to be in front of you and be able to answer questions. No, scherzi a parte vorrei ringraziarvi per essere venuti due volte consecutive in due giorni. Quindi amo sempre moltissimo l'opportunità di poter parlare di fronte a voi, di poter parlare del Parma. Conoscete, insomma, la mia passione per questa società. And maybe my challenge would be to maybe take the opportunity to look at what Parma is doing in a positive light and see what we can do to help make Parma rise from where we are today because we all need that. and thank you for your continued support and voice of Parma. Quindi la mia sfida a questo punto è di continuare a guardarmi in giro per il Parma, a vedere cosa si possa fare per poter riportare in alto questa società. Grazie a tutti.